Alberto Sordi è venuto ad abitare qui nel 1958, la villa era stata messa all'asta e ci fu anche una competizione piuttosto forte tra Alberto Sordi e Vittorio De Sica per l'acquisto. Alla fine vinse Alberto perché la disponibilità di liquidi finanziaria di Alberto Sordi in quel momento era superiore a quella di De Sica. Siamo a Villa Sordi con Luca Verdone che insieme al fratello Carlo fa parte della fondazione che dopo anni di chiusura la vuole trasformare in un museo. E allora entriamo, scendiamo subito le scale che portano al teatro in cui proiettava i suoi film in anteprima per gli amici, teatro che ora ogni domenica ospita un concerto in sua memoria. E lì accanto è la stanza che raccoglie l'Alberto Sordi del cinema, degli aneddoti da set. Questa era la sua palestra personale, ma quello che è divertente in questo ambiente è la raccolta di tutti i cimeli dei suoi film originali. Vedete la paletta del vigile, vedete il casco del vigile, la bombetta di fumo di Londra. La tuba di Gastone, il casco che lui utilizzò per i due nemici, aveva un culto anche feticistico per le cose che usava sulla scena. E poi ci sono centinaia di pezzi di vita privata scritti a macchina. Annunziata era la sua segretaria, diciamo, particolare. E qui teneva le note di tutti gli indirizzi di tutte le persone di cui aveva bisogno, vedi? Pittore Giorgio De Chirico, ecco questo è interessante, Piazza di Spagna 31. E non manca il numero di telefono di una principessa a cui lui era molto legato e di cui troviamo traccia nel cuore della casa, nello studio. Tra i De Chirico, i cui originali adesso sono custoditi al Museo di Arte Moderna e fotografie private. Questa dedica fatta dalla principessa Soraya ad Alberto Sordi, vedete? Alberto aveva una predilezione per la principessa Soraya. Chiedo che ci fosse anche una sorta di passione per la bellezza di questa principessa. Qui Alberto leggeva i copioni che gli venivano recapitati. Quando leggeva dei copioni che non lo soddisfacevano, prendeva il copione e lo buttava per terra con una certa violenza e si sentiva il rumore che si riverberava sotto, quello era il segnale che era venuto il momento di andargli a buttare. Tra Grolle d'Oro, Davide di Donatello, Orsi d'Oro, Leoni d'Oro e tutti gli altri premi più importanti cinematografici, sono tutti qui raccolti. L'Orso d'Oro di Berlino, per esempio, ecco, quello è un premio di cui era molto fiero per il diavolo di Polidoro. C'è poi la barberia, la poltrona che lui tanto amava. Qui leggeva le lettere, studiava in memoria le battute prima di andare a recitare una parte. In un angolo della barberia c'è anche il guardaroba di Alberto Soldi con tutto il suo vestiario. Vedete, è stato tutto conservato minuziosamente. Tanto la tintoria passa per mantenere l'antitarmico. E poi le stanze dell'arte dell'antiquariato, delle cene con gli amici. Siamo nel salone della villa di Alberto Soldi, nel piano terra. Come vedete è un arredamento molto legato al periodo della costruzione di questa casa, cioè siamo intorno agli anni 30. Una delle passioni di Alberto Soldi era appunto quella di collezionare oggetti d'antiquariato. La passione di Alberto, vedete, per le ceramiche, le porcellane preziose. Qui ce n'è una addirittura cinese, di questo personaggio di Buddha, che Alberto gli attribuiva particolari proprietà di portafortuna. Lo accorezzava sempre, sì. Una stranezza per un uomo religioso come Sordi, devoto a Papa Giovanni Paolo II, delle cui foto la casa è piena, ma con un Buddha come portafortuna. E del resto era un uomo complesso, grande personaggio e uomo riservato, con la casa sempre aperta, ma per pochi pochissimi amici. Qui avvenivano i pranzi, i pranzi ufficiali. Venivano accolti i fellini, Dino de Laurentiis, i cardinali di Santa Romana Chiesa, venivano qui e sedevano. Monica Vitti era sempre qua, tutte le mattine, tutti i pomeriggi. Mangiavano le fettuccine, che era un po' il piatto, diciamo, tipico della cucina di Alberto Sordi. I suoi amici, cui era allegatissimo, come lo era i cavalli. In ingresso c'è Nestore, quello del film, L'ultima corsa. A me mi dispiace. Non capisco che devi entrare. Non c'è niente da fare. È il destino tuo, è già assegnato. E lontano dalla finzione, si racconta che i macellai, appena vedevano Alberto Sordi alle afte dei mattatoi, se ne andassero rassegnati. Sapevano che li avrebbe comprati tutti per salvare loro la vita. E accanto a Nestore, quattro ruote che raccontano chi fosse Alberto Sordi, meglio di tante parole. Alberto Sordi ha usato quest'automobile fino agli ultimi tempi proprio in cui circolava per Roma. Gli ultimi tempi non la guidava lui, la guidava Arturo, il suo autista. Con questo Alberto aveva il vantaggio di tenersi, diciamo, defilato. Si nascondeva in questa grande casa e lo faceva anche prima, quando abitava con la famiglia in un posto che ha scritto l'inizio di questa storia. Lui abitava in un appartamento all'ultimo piano di un grande palazzo che sta a Via dei Pettinari. E le sue finestre davano sul terrazzo della casa in cui vivevamo io, Carlo e tutta la mia famiglia. Carlo aveva più coraggio nel tirare sassetti nella finestra dove dormiva Alberto Sordi. Si affacciava sempre la sorella, Aurelia, e una volta, qualche anno dopo, Carlo la incontrava e pensava che fosse Alberto Sordi vestito da donna. Questa è una cosa curiosa. Non avrei mai creduto che io e mio fratello Carlo avessimo questo compito di accompagnare la gente nella conoscenza della sua grande arte, del suo cinema. E quel destino di aver lanciato quei sassetti nella finestra di Via dei Pettinari era evidentemente un gesto che ci avrebbe legati per sempre, forse. You never told me how much you cared, I never guessed it somehow.